siamo con il presidente dell'atomobile club di reggio calabria giuseppe martorano karting in piazza 5 6 settembre pur con tutte le cautele del caso ovviamente riservate all'emergenza covid contingente una manifestazione fortemente voluta dall'aci realizzata in collaborazione con l'autosport sorretto che vuole cementare fin da subito nei piccoli utenti i primordi della sicurezza stradale del rispetto della regola si automobil club ha una grande sensibilità verso la guida soprattutto verso i giovani educarli e formarli sulla percezione del rischio un fatto importante noi abbiamo voluto fortemente questa manifestazione era già programmata e per la primavera 2020 poi stata spostata al 5 e 6 di questo mese proprio per dare un segnale di ripresa e di rinascita ma soprattutto informare e formare i ragazzi che sono gli autisti del domani e invitiamo i genitori i nonni ad accompagnare i ragazzi da sei a dieci anni a questo evento segnavo il perimetro dei due giorni quindi sabato e domenica da che ora a che ora sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 14 poi una pausa si riprende alle ore 16 per terminare l'ore 20 si possono prenotare andando sul sito di automobil club reggio calabria e si programmano la partecipazione perché non devono venire tutti alla stessa ora ma vengono certo da ramassi nella due giorni il luogo è la punto lo slargo stazione lato sud stazione lido quindi nella zona nord della città quindi un appuntamento per tutti sabato e domenica 5 6 settembre karting in piazza automobil club reggio calabria ma con la partecipazione delle scuderie di questa provincia con la partecipazione delle scuole guida di questa provincia con la partecipazione delle nostre delegazioni sul territorio ma soprattutto anche con la partecipazione di sarà assicurazione grazie a giuseppe martonano presidente dell'automobil club grazie e arrivederci siamo con sandra pagani direttore dell'automobil club in reggio calabria karting in piazza una manifestazione in cui il suo ufficio ha riservato particolari per cui il suo ufficio ha riservato particolari attenzioni andiamo a sostanziare un po le attività il le iscrizioni tutto quanto serve per partecipare a questa che ha messo abbiamo pensato di organizzare questa grande manifestazione che naturalmente è organizzata insieme ad acisport alla fia e a sarà assicurazioni e che rientra nel progetto di educazione stradale per i bambini è una cosa molto giocosa insegneremo l'educazione stradale in un modo simpatico giocoso in totale rispetto delle normative antico vid ci sarà addirittura una cabina di sanificazione per essere dare appunto la sicurezza ai genitori che venga tutto effettuato nel rispetto delle normative sia di acisport che della regione calabria l'area sarà completamente recintata accederanno solo ed esclusivamente i bambini i genitori ci faranno la cortesia di aspettare fuori per il rispetto della salute di tutti ogni turno è di 12 bambini proprio per rispettare il distanziamento sociale verrà ai quali verrà somministrato un corso teorico in modo molto carino molto diciamo accattivante per i bambini sulle dieci principali regole della sicurezza stradale e quello che avranno imparato a livello teorico lo metteranno in pratica la guida di carte elettrici in un percorso appositamente studiato e seguiti da istruttori federali di acisport le iscrizioni si possono fare proprio per il discorso del covid solo ed esclusivamente online ma è un modo molto semplice o inquadrare il qr code che è presente sulla locandina o collegarsi al sito basta riempire i campi dedicati e inserire anche una foto dal cellulare del documento dei genitori